Buongiorno a tutti, noi siamo la Climair 50, noi siamo produttori specializzati nella produzione di cicatoi per foraggio in balle pressate e siamo nel settore da oltre 25 anni. I nostri impianti sono in tutto il mondo, sono ad esempio in Europa, Inghilterra, Canada, Stati Uniti, Nuova Zelanda. Le caratteristiche dei nostri cicatoi sono le seguenti, la presenza del doppio flusso nel processo di essiccazione per una maggiore efficacia del processo stesso, lo sviluppo dei cicatoi su due piani e a doppia fila che permettono la maggior compattezza del macchinario e il contenimento degli spazi e minor perdite di calore. I vantaggi dell'essiccazione a doppio flusso dell'essiccatoio Climair 50 consistono principalmente in due punti. Maggior quantità, grazie al processo di essiccazione riusciamo ad aumentare la produzione per ettaro, infatti raccogliendo un fieno più umido riusciamo a ridurre i tempi e il lavoro sul campo, le perdite meccaniche aumentando la quantità di foraggio raccolto per ettaro. Qualità, raccogliendo il fieno a uno stadio vegetativo ottimale, quindi ancora giovane, otteniamo un fieno che ha delle caratteristiche nutrizionali di grande efficacia, ad esempio per le vacche da latte. Gli esperti nel settore e i tecnici lo confermano, i nostri clienti sono al top del mercato e con loro festeggiamo i nostri 25 anni.